Bentornati a Spazio Reteo, siamo qui in questa stupenda location in via Catastria a Giuliano per questa trasmissione che sta riscuotendo molto successo. Io oggi ho il piacere di essere con l'avvocato Pasquale Parisi con il quale ci daremo del tu perché per tutti e due è un po' un ritorno al passato. Penso che non intervistavo Pasquale da un bel po' di tempo, io ho iniziato a fare il giornalista intervistando Pasquale che era un attivissimo politico della città e oggi ci ritroviamo qua a raccontarci un po' quello che è successo. Allora io proprio da questa prima foto vorrei partire avvocato. Eccola qua, te la faccio vedere, è una foto tua con come stai vestito diciamo. Con il microfono però lo dobbiamo dire, con una maglietta rossa. Credo di ricordare che la tua prima intervista sia stata nel lontano 2003, commentavamo i risultati non ancora definitivi delle elezioni amministrative. No, prima, molto prima, forse in 97. Sì, quando tu fossi candidato sindaco. Allora 2001. 2001, ma ancora prima quando tu eri Presidente del Consiglio Comunale. Allora la foto che avete visto è una foto di Pasquale Parisi in maglietta rossa quando c'è stato un appello sui social a indossare una maglietta rossa. Una foto che io ho messo come prima foto proprio perché è una foto che testimonia una cosa, un impegno in politica nonostante tutto da una vita. Sì. Come nasce questa passione? Ma io credo che nasca fra i banchi di scuola. Io ho cominciato da ragazzino, si può dire, con i comitati studenteschi. Sono stato, credo, a 15 anni eletto per la prima volta nel Consiglio d'Istituto del nostro liceo scientifico. Doveva essere l'anno 1978, credo. Poi ci sono rimasto fino alla conclusione del mio percorso liceale. Poi un po' con la passione che mi ha trasferito papà, il quale è stato sempre un attivissimo militante, sebbene mai nelle istituzioni del Partito Socialista Democratico italiano. Ecco, questo è un punto importante. Molti pensano che Pasquale Parisi nasce comunista, invece non è così. No, no, anzi. Pasquale Parisi nasce con la prima elezione, se non sbaglio, quella col PSD. Sì, nel 1988 fui eletto per la prima volta nelle liste del Partito Socialista Democratico italiano. Consigliere Comunale. Si è stata eletta ininterrottamente fino alla... L'ultima elezione alla quale ho partecipato da candidato al Consiglio Comunale è stata quella del 2003. Risultato eletto. Sì. Quell'esperienza però fu conclusa perché ti dimettesti prima... Sono andato via il 15 ottobre del 2007, rassegnando una lettera di dimissioni, facendola presentare, chiedendo la cortesia ad una dipendente del Comune di Giuliano, che in quel momento era a distanza al protocollo, all'ufficio protocollo, chiedendo poi all'allora Presidente del Consiglio Comunale di darne lettura nel successivo Consiglio Comunale. Lo feci il 15 ottobre del 2007, lo ricordo benissimo perché il 15 ottobre è il compleanno di mio padre, l'onomastico di mia moglie, la compagna della mia vita. Ed era il giorno successivo alla tenuta della nascita del Partito Democratico. Perché ricordo che noi facemmo le primarie nazionali il 14 ottobre del 2007, ci tenevo a farle in quella occasione ancora da consigliere comunale, in quel momento ero capogruppo dei democratici di sinistra in Consiglio Comunale, il giorno dopo rassegnai le dimissioni e andai ad assumere, un ruolo molto importante. Sebbene non vi fosse la necessità, perché non c'era questa sorta di incompatibilità, ma io la sentivo un poco come dentro di me, andai ad assumere il ruolo di difensore civico all'allora provincia di Napoli, oggi città metropolitana. E fosti surrogato, poi ne parliamo dopo, da? Penso Peppe Agrillo, mio compagno di scuola elementare, di scuola medica, mio amico da sempre. Eccoci qua. Allora, la prossima foto che ti faccio vedere è proprio questa, no, la riconosci? Eccomano, questa è la nostra folla consigliare. Quanto ti manca? Devo dire la verità, mi manca ancora. Nonostante siano trascorsi oramai 16 anni, quasi, mi manca ancora. E perché ti manca fare politica rappresentando le persone? Perché poi politica tu la continui a fare, diciamo, nel partito. Sono nel partito democratico, voglio dire, anche se per un certo periodo... C'è perché si sceglie a un certo punto di dire basta, non mi candido più? Ma sai, perché quello era il tempo nel quale nasceva questa nuova forza politica, che doveva essere, sintesi, secondo me mai realizzato o del tutto non realizzata, fra cattolicesimo democratico e socialismo riformista. E io ascoltando quelli che paventavano nei mesi precedenti, qualche anno prima, diciamo, questa necessità, la necessità di questo abbraccio, e qualcuno diceva tantissimi anni fa che era il tempo di ascoltare più che di essere ascoltati, un poco perché, voglio dire, la mia vita in politica mi aveva dato tante soddisfazioni, mi aveva dato anche, come si può dire, qualche amarezza. In me è rimasta l'amarezza di non essere riuscito a diventare sindaco della nostra città, è una cosa alla quale tenevo moltissimo, diciamo. Probabilmente... Come te lo dici al passato? Voglio dire, tu, vabbè, sei, ti porti benissimo, però lo possiamo dire, no, hai superato la cinquantina, diciamo così. Da un po' di tempo. Hai tutte, voglio dire, le carte regola per poter riprovare un'esperienza del genere. Perché la vivi al passato? Anche che ricordiamo, molti degli spettatori forse non erano ancora nati, tu, diciamo, sei stato per un periodo, possiamo definirlo un po' così, l'enfant prodigio sembra, diciamo, forse un po' troppo, però sei stato, voglio dire, il principe designato, no? Dopo la fine dell'era Gerlini, tu eri, diciamo, l'unico che poteva avere l'eredità di quella parte politica, avevi fatto il presidente del consiglio comunale, avevi un'ottima capacità politica, hai un'ottima capacità politica, eri apprezzato in maniera trasversale, non avevi apprezzamenti sulla sinistra, poi ci fu quell'esperienza, oggi la candidatura del 2001, che comunque, voglio dire, finì bene, perché il risultato comunque fu un risultato molto importante, però, diciamo, che portò poi all'elezione di Antonio Castaldo, che era un po' appoggiato da tutti in quel momento, cioè tu ti trovassi a fare una campagna elettorale solo contro tutti. Sì, in realtà ricordi benissimo, diciamo, come andarono le cose in quel lontano 2001. Poi sai, dopo quella esperienza, comunque avevo fatto, già il presidente del consiglio comunale, ero da qualche anno in consiglio, nel 2003, l'anno successivo, alla caduta per dimissioni, credo, numerose, se ricordo bene, furono addirittura i 27 colleghi del consiglio che rassegnarono quasi contemporaneamente le proprie dimissioni per la caduta della giunta Castaldo, di quella esperienza che, secondo me, avrebbe potuto anche dare qualcosa di nuovo, diciamo, perché Antonio è stato un avversario politico in quel momento, ma era fondamentalmente un amico, diciamo, probabilmente ci dividevano, diciamo, le, come si può dire, le idee di fondo, diciamo, su come affrontare i problemi di questa città e con ogni probabilità anche il fatto che lui venisse da un'esperienza di partito profondamente diversa dalla mia. Io, sebbene non iscritto, voglio dire, mai al partito comunista, mi sono sentito sempre un socialista. Io quella stagione la ricordo poco perché per mia fortuna vivevo in Spagna, feci un anno in Spagna, proprio nell'anno che Castaldo è stato, diciamo, sindaco. Però io ricordo, voglio dire, dei manifesti forti, agguerriti dell'allora di esse, diciamo, contro Castaldo. Si faceva opposizione. Soprattutto, diciamo, contro il suo vice sindaco, che era poi il padre dell'attuale consigliere dei 5 Stelle, Nicola Palma. Mi ricordo questi manifesti con, diciamo, Castaldo piccolo piccolo, perché me li mandavano all'epoca via mail, perché non esistevano i telefonini, Whatsapp e compagnia bella, andava via mail e Palma grande, grande. Perciò, diciamo, non è che è la vostra opposizione, poi voi mi dimetteste. Perciò, questa è una domanda che io ti volevo fare, no? C'è sempre questo ricordo di Castaldo come, diciamo, forse il miglior sindaco di Giuliano, premesso che come persona io sono il primo, voglio dire, a stimarlo, perché era una persona eccezionale. Però io non ricordo, voglio dire, quell'amministrazione, anche se è durata poco aver avuto, diciamo, particolari meriti, particolari sconvolgimenti, diciamo, della vita politica nella nostra città. Vorrei un attimo, se possibile, diciamo, cercare di rettificare la mia dichiarazione. Parlavo di Antonio Castaldo come persona. Non ho mai condiviso in quell'anno di sindacato Castaldo ogni e qualunque provvedimento che la sua aggiunta o la sua maggioranza abbiano posto in essere o hanno tentato di porre in essere. Anche perché la maggioranza di nemici storici, c'era Giovanni Pianese, c'era Luigi Guarino, c'era Antonio Dell'Aquila, c'è di tutte persone che, per l'amore del cielo, sicuramente tu stimerai a livello personale, ma con le quali non mi siete mai trovati dalla stessa parte. Sicuramente no. Le battaglie politiche sono state anche altre. Sicuramente no. Io ricordo, diciamo, di aver iniziato la mia esperienza di consigliere comunale con Giovanni Pianese, sindaco, ma erano i tempi in cui non c'era l'elezione diretta del sindaco secondo la legge 81, che venne poi promulgata nel 1993. Quindi, se ricordo bene. Sì, però il tema... Lasciamo stare Castaldo, che, ripeto, persona bravissima ed eccezionale, la mia domanda era sull'amministrazione Castaldo, ma fondamentalmente il tema è un altro, perché non ci hai mai riprovato? Cioè, noi abbiamo oggi un sindaco, Poziello, che comunque è stato eletto al secondo tentativo, abbiamo nel PD, si parla di questa ricandidatura di Nicola Pirozzi che comunque è stato sconfitta alle primarie, potrebbe provarci, ci auguriamo per lui, che, diciamo, sia questa la più fortunata. Lo stesso Giovanni Pianese, voglio dire, è stato, diciamo, eletto, poi ha avuto, diciamo, dei problemi seri giudiziari, poi è ritornato a essere stato eletto. Cioè, in tanti ci hanno riprovato. Ti faccio questa domanda, così la faccio anche un po' a me stesso. Perché non ci hai riprovato? Perché, allora, io ritenevo di poter avere ancora una chance nel 2003. Infatti la mia candidatura al Consiglio Comunale in quel momento derivò dall'essere stato annoverato in una cerchia ristrettissima di probabili candidati sindaco che i democratici di sinistra avevano posto sul tavolo delle trattative provinciali. fummo, diciamo, esclusi a vantaggio, fummo esclusi tutti a vantaggio, diciamo, di questa indicazione che veniva dall'esterno. Cioè, nel senso che non era nella rosa di candidati ristretti che il nostro partito aveva dato. Francesco Taglialatela. Che sindaco è stato Francesco Taglialatela? Fammi finire un attimo. Io trovai la forza in quel momento di candidarmi al Consiglio Comunale e potevo evitarlo. Dovetti dire, diciamo, ai tanti giovani compagni che mi accompagnarono poi e che mi avevano accompagnato e mi accompagnarono successivamente in quella, devo dire, anche affascinante avventura, diciamo, anche se di esperienza consigliare che veniva subito dopo quella bellissima, diciamo, che io ho vissuto nonostante la sconfitta di candidato sindaco del 2001. Di quel centrosinistra, diciamo, che aveva i connotati del centrosinistra ma non la sostanza di quello che negli anni precedenti probabilmente si era riusciti a mettere in campo, diciamo, a determinare una serie di vittorie notevoli diciamo, anche nel nostro territorio, nella nostra città. Non solo a livello comunale ma anche per quello che risultavano poi essere come si può dire, i dati che venivano fuori in ragione di elezioni diverse, regionali, politiche, insomma, e quant'altro. Che dire, candidarmi per l'ennesima volta, credo per la quarta, quinta volta, insomma, al Consiglio Comunale fu per me, diciamo, la risposta, diciamo, ad un voler obbedire alle esigenze del momento, alle necessità. Non candidarmi, sai, sarebbe potuto passare come uno che magari non aveva avuto la caramellina, sbatteva la porta e se ne andava. Poi non ti sei candidato più, allora a questo punto lo dico io, perché tu non lo stai dicendo, perché a un certo punto hai spostato la tua massa critica, il tuo gruppo di lavoro politico, su un altro candidato, che è Raffaele Pacili, che hai aiutato, voglio dire, in varie elezioni, permettendone anche di avere dei risultati eccezionali. Lo dico io per dire che sei uno dei rari e giovane, perché tu sei ancora giovane, all'epoca eri ancora più giovane, diciamo, poi ti sei fatto da parte per appoggiare, voglio dire, uno più giovane di te. E questo penso che ci sia un tuo grande merito. Sì, io ho sempre considerato... Allora, Raffaele è stato sempre un fratello più piccolo, ci divide qualche anno e lui ha vissuto i primi anni di esperienza professionale al nostro studio, è cresciuto con noi, è il padrino di battesimo di mio figlio. È stata la persona più vicina a me nelle varie esperienze che io ho avuto. L'ultima è stata quella di candidato al Consiglio Provinciale per i Democratici di Sinistra, i quali non avendo in quel mentre un sindaco iscritto al partito, un vice sindaco iscritto al partito, decisero, diciamo, con questa sorta di direttiva nazionale, di candidare i capigruppo consigliari laddove necessitasse. A Giuliano c'ero solo io iscritto al partito, ero io in quel momento il capogruppo in Consiglio Comunale, il partito decise di candidare me. E questa è stata l'ultima esperienza che ho fatto, diciamo, e devo dire, diciamo, con un poco di rammatico, che anche in quell'occasione... Non è avuto dietro le spalle l'apporto di tutti, diciamolo chiaramente. Sì, credo di non aver avuto l'apporto di tutti. Di questo e della prossima foto ne parliamo subito dopo una breve pausa. Ci fermiamo veramente per pochi secondi. Restate con noi. Stiamo ripercorrendo la carriera politica di Pasquale Parisi. Adesso ripercorremo, oltre a quella politica, anche quella professionale e quella personale. di Pasquale Parisi